Peter Phan con a largo perno Axe, cavalli che affrontano la piegata, poi Patroclo. Insiste l'allievo di Ossani a via libera a metà della piegata ed è al comando. Cavalli dopo 200 metri di gara, 15 impiegata a fila indiana con al comando il numero 5 di Perno Axe, si va dopo 400 metri di gara che sono passati in 36, grado a piacimento il leader. E i cavalli che affrontano ora la seconda curva con Patroclo. 3,16 e mezzo di frazione. Andatura turistica ora imposta dal leader. E siamo al completamento della seconda curva, cavalli davanti alle tribune, il mezzo miglio iniziale, in 1,3 e mezzo, è tutto tranquillo, con Perno, Peter, poi il 2 di Patroclo e il 6 di Pegaso. Primo chilometro, ho 18,8 sul mio cronometro, e cavalli che affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali con il leader che inizia a pedalare e accelera. Mezzo miglio alla conclusione con Perno, che è Perno per il momento di situation. La frazione è di fronte da parte del targato AX nell'ordine del 14,9. Si affaccia a Pegaso. Perno sempre per proprio conto, si migliora a Pegaso. Il miglio è chiuso in 2,4. Allargue Dinardo con Penn-Andreffali. Perno ha per proprio conto al complemento della piegata, ed è stata una promenade de santé per il Romoletto nazionale. Fine via la grande il 7 di Power F. Palo vicino per il secondo e terzo posto, mentre Perno è il perno de situation. Per il secondo, sul traguardo alla grande Power F. Pizzica l'avversario. Io ho 2,33 e mezzo sul mio cronometro, 3,23 in chiusura. Un cost-to-cost con un primo chilometro un po' al volume, ma un secondo a lei a lei, per vedere esattamente le possibilità di questo ennesimo elegante costruttivo Love You. Il colore della scuderia Perno è Romoletto.